Salve a tutti, con questo video vogliamo mostrarvi come registrare la vostra struttura sul nostro portale. Andate su www.ok-bedandbreakfast.it e cliccate il tasto in giallo nel menu in alto Inserisci la tua struttura. Al punto 1 inserite dati gestore struttura, nome, cognome, nome struttura, ecc. Al punto 2 inserite i dati per l'accesso, scegliete una password e inserite la vostra email. Attenzione a questo campo che è molto importante perché oltre ad essere il vostro username sarà anche l'email alla quale noi invieremo le nostre comunicazioni e gli utenti scriveranno per fare le loro prenotazioni. Al punto 3 inserite l'anti-spam. Al punto 4 accettate la privacy, poi cliccate registrati. Una volta ottenuta la conferma, cliccate login, inserite l'email e la password scelta. Verrete rimandati alla vostra area struttura. Voi potrete completare i campi mancanti per la vostra struttura e inserire il puntatore nella posizione corretta della mappa di Google. Se non trovate il punto preciso con l'indirizzo, modificatelo inserendo latitudine e longitudine. Nella linguetta servizi inserite tutti i servizi che offrite. Nella linguetta punti di interesse inserite i punti di interesse che sono vicini alla vostra struttura. Cominciate a scrivere dentro il campo nome e punto di interesse e selezionate il punto tra quelli proposti. Se non lo trovate, continuate a scrivere, inserite la distanza in chilometri e cliccate salva. Il punto verrà automaticamente aggiunto, sarà visibile nella vostra scheda e sarà a disposizione di altri utenti per i loro inserimenti. Nella linguetta prezzi inserite i prezzi delle vostre camere. Attenzione anche a questi campi che sono importantissimi perché se non riempiti non comparirete nelle ricerche del portale, quindi nessun utente potrà contattarvi per prenotare. Una volta inseriti cliccate salva modifiche. Nella linguetta offerte potrete inserire offerte relative alla vostra struttura. Nella linguetta foto potrete inserire le foto. Nei dati utenti avete il riepilogo dei vostri dati. In cambio a login potrete modificare la password di accesso. Nelle statistiche vedrete le statistiche delle richieste, delle visite al vostro sito se l'avete inserito e da dove sono entrati. Nella linguetta banner troverete il banner da poter inserire nel vostro sito web. La linguetta rinnovo al momento non è utilizzata, vi mostra sempre il periodo gratuito, però è utilizzata quando decideremo di mettere il portale a pagamento. Ricordatevi dopo aver fatto ogni modifica in ogni linguetta di cliccare salva in ogni sezione. Grazie per aver guardato il video e buon proseguimento con Ok Benembra.